Allora, buongiorno, buonasera, io sarò a Milano dal 19 per quattro giorni, quindi 19, 20, 21, 22, al Teatro Menotti che ben conosco perché non dico che ho iniziato lì, ma quasi, a fare cosa? A fare Rossi in testa, che è una sorta di via di mezzo tra un concerto e un evento teatrale, come era del resto Giammaria Testa, a cui non facciamo un omaggio, non facciamone un ricordo, ma dovrebbe essere una festa. Giammaria si occupava lateralmente di teatro, io di musica, e su questo incrocio ci siamo incontrati, abbiamo fatto degli eventi assieme molto folli, molto bizzarri, molto strani, in una stazione, dove anche un teatro ad alba, mi pare, con due platee, una davanti e una di dietro. Dopodiché lui, su mie richieste, ha scritto le canzoni per i miei ultimi due spettacoli, che sono Arlechino e Molière, dopodiché si era messo in testa di scrivere delle canzoni per me, perché gli piacevo come cantante, come cantante interprete, chiaramente. Sono degli inediti, li mettiamo tutti insieme in una sorta di happening, con Emanuele dell'Aquila e i virtuosi del Carso, e ogni sera lo spettacolo, pur mantenendo le canzoni di Giammaria, sarà diverso per le affabulazioni che inframmezzeranno una canzone e l'altra. Affabulazioni fatte di ricordi, di aneddoti anche gustosi, divertenti. Ripeto, è una festa. E quindi accorrete in massa numerosi, perché mica lo rifaccio dopo.